Top driver speciale qualifiche del venerdì, subito in pista, Arthur Carey con la sua Kia Stinger Splash. Arthur Carey è un amico di vecchia data di Max. Beh, ricordiamo. Di che stiamo parlando, scusa, non ho tempo adesso. Eh, invece lui fa il tempo, 7, 3, 1, 8. Andiamo a parlare di piloti seri, Andrea Pascal a bordo dell'Audi R8, Black Knight ha fatto segnare il giro veloce. Andrea Pascal, uomo o donna? Eh, mistero, non lo sappiamo, comunque sotto i 7 secondi. Abbiamo poi la spilugona olandese Judith van der Ljonen con la sua Ford GT Sweet Clementine. È stata un osso d'oro, si è guadagnata la semifinale. E comunque segna un tempo medio di 7,46. Abbiamo poi in ultimo, ma non ultimo, Copo Camaro SS Dimitri Popov che guida nebbia, anche se la nebbia sembra avercela nel cervello per quanto sta andando piano. Fa un giro veramente pessimo, 8, 3, 3, 3, 4. Ci vediamo domani per la gara.